Per un corretto sviluppo craniofacciale è necessario fare uno screening dei frenoli linguali, in quanto i frenoli linguali sono anche responsabili di una difficoltà da parte del neonato all'allattamento al seno. Inoltre è importante anche la valutazione della respirazione, quindi bisogna fare in modo di promuovere la respirazione nasale e di impedire la respirazione orale. Quindi un'altra cosa molto importante è durante lo svezzamento fare in modo che i nostri pazienti imparino a masticare cibi sempre più consistenti. Tutto ciò ha molta importanza perché devono essere ben sviluppate le funzioni primarie che sono appunto la respirazione, la deglutizione e la masticazione. Soltanto con una corretta funzione primaria si potrà quindi assicurare al nostro piccolo paziente una crescita craniofacciale armonica ed evitare in futuro terapie ortodontiche.